Con l'anno scolastico 2018-2019, gli allunni della scuola Antonio Bruni di Casale avranno a disposizione 5 nuove aule, uno spazio mensa più ampio e 3 laboratori. Contemporaneamente verrà realizzata la biblioteca e uno spazio polivalente. La progettazione è stata vinta da Jacopo Venerosi Pessolini, capofila di un pool di professionisti. Innovativa anche la modalità con cui è stato concepito il bando. Abbiamo sperimentato una modalità nuova che sostanzialmente prevede di avere un elenco di gruppi di professionisti. Quindi ogni gruppo è composto da architetti, ingegneri, pedagogisti, esperti di energetica, eccetera. E quindi come funziona dopo? Il comune prende da questo elenco una decina di professionisti, dà il bando, quindi in questo caso quello che prevede la realizzazione dell'ampliamento e la biblioteca a Casale, e i progettisti si confrontano su un progetto, dieci, devono dare due tavole, in questo caso, con una relazione. E quindi è un procedimento estremamente veloce e rapido. In circa due mesi l'amministrazione a questo punto, dal momento in cui ha bandito il concorso, ha il risultato di un'opera che verrà realizzata. Il costo complessivo è di 600 mila euro, completamente finanziati. I lavori inizieranno il gennaio 2018 con consegna nella primavera dello stesso anno e non interferiranno con il normale svolgimento delle elezioni. Abbiamo pensato allo spazio come un'estensione dell'area interna, quindi tutte le aule, sia la biblioteca che le aule, avranno delle grosse vetrate con delle aperture, quindi sia i bambini che i fruttori della biblioteca potranno usare molto anche lo spazio esterno. È stato previsto anche uno spazio pubblico, antecedente alla biblioteca, per il quartiere.